Amici sportivi! Ciao a tutti amici sportivi e benvenuti nel Tempio dello Sport! Io sono Niccolo Cecchi e qui al mio fianco c'è Andrea Di Berardino! Come stai Andrea? Bene bene bene, te Nico? Tutto bene grazie, sono molto carico e motivato nell'iniziare questa nuova avventura. Amici sportivi è un podcast a tema interamente sportivo, cercheremo di analizzare lo sport a 360 gradi, quindi in tutti quelli che sono i suoi fenomeni, esattamente, tutti gli sport, le sue discipline, il bello che c'è. Quello che c'è anche dietro lo sport, esattamente, quello che si vede dall'esterno e quello che non si vede in realtà. L'obiettivo è quello di pubblicare due episodi a settimana che si chiameranno All In e uno speciale della settimana. Nell'All In diciamo racchiuderemo... Una sorta di rassegna stampa. Esatto, un po' gli eventi principali della settimana, insomma, quello che si è concluso, cosa si è verificato. Mentre nello speciale andremo di più ad approfondire un tema, un evento, un qualcosa che conosciamo di meno e che però magari merita ed è molto interessante. Poi magari portiamo la conoscenza a qualcosina e non si sa bene e la facciamo conoscere a tutti i nostri seguaci. Assolutamente, assolutamente. Andrea, la presentazione l'abbiamo fatta. Partiamo, partiamo. Io direi di partire. Partire perché? Perché inizia la Serie A. Torna la Serie A. Quanto c'è mancata? Tanti. Diciamolo che c'è mancata. Allora, l'estate senza la Serie A perde di qualcosa perché entra nel vivo il calciomercato e si parla solamente di calciomercato e il rischio un pochino è che si creano delle telenoveli infinite perché di base poi non succede nulla. In questo momento sto pensando alla telenovela che c'è stata con l'attaccante della Roma. Esattamente, ma pure con Lukaku. Con Lukaku, esattamente. C'è tantissima telenoveli che... Però avendola comunque, stando qua a Roma, avendola vissuta particolarmente da vicino, per tre settimane piene si è parlato solo ed esclusivamente dell'attaccante della Roma. Mamma mia, non gliela faccio più, ti giuro. Aspetto solo che inizia il campionato. Esatto, quindi quando invece ritorna un po' le partite, ricomincia... Cioè, sono quelli giocatori... Si movimenta il tutto, succede qualcosa e noi siamo pronti ad accogliere questa nuova stagione che si aprirà con Frosinone Napoli. Con i campioni d'Italia. Con i campioni d'Italia che andranno a giocare contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Una promossa. Come vedi il Napoli quest'anno? Allora, anche l'anno scorso non era data per favorita, come possibile vincente, un po' sconosciuta tra i chi, ma i due tre acquisti. In realtà, secondo me, alla fine quest'anno hanno fatto anche loro un mercato... Vuoi non vuoi, hanno dato via Kim, hanno preso il brasiliano, non è che hanno rivoluzionato, hanno cambiato l'allenatore, questo c'è da dire. Esatto. E questo può essere il più grande punto interrogativo. Garzia torna in Italia. Che aveva fatto tanto bene con la Roma, soprattutto nella prima stagione, le dieci vittorie consecutive... Infatti, è probabile una partenza del Napoli al top? Eh, Garzia ce l'ha, Garzia ce l'ha questa cosa. In parte, il primo anno, lo sai, anche lui aveva vinto lo Scudetto in Francia. Sì. Ed era partito anche lui il primo anno benissimo. Quindi, secondo me, ci può stare una partenza. Poi, all'inizio comunque, con il frosinone, a meno che non succeda qualcosa, veramente quasi di non prevedibile, una gara alla portata della squadra campana. Invece, volevo chiederti, della partenza di Kim, che ne pensi? Eh, quella è stata un bel... Sai, per la difesa, l'anno scorso è stato tipo il muro difensivo del Napoli. Eh, al Bayern, boi, si è presentato lui e Kane al primo titolo Supercoppa, 3-0 dall'Ipsia. Penso un po'... Vabbè. Certo, il Bayern, secondo me, è una bella squadra questa. Bella squadra. Certo, un povero Kane, te lo posso dire. Eh, lo so. Cioè, se ne va dal Tottenham, dove è stato per anni, non ha vinto nulla... Non ha vinto nulla. Va, al Bayern. E non vince lo stesso. Però, secondo me, avrà modo comunque di vincere andando avanti. Però, torniamo un attimo sulla nostra amatissima Serie A. Perché è stato un mercato un po' particolare. Nel senso che... Io mi focalizzerei un attimo sul Milan. L'abbiamo detto spesso in questi mesi tra noi due, che i tifosi rossoneri hanno vissuto un mese di giugno molto complicato. Giugno infernale, ricordato a lungo. Nel senso che se ne è andato via Maldini, è stato venduto Tonali, e all'inizio la società sembrava un pochino allo sbaraglio, cioè senza delle linee guida. Invece dopo... Hanno fatto... Possiamo dire, in Italia forse la squadra ha fatto più un mercato. Sì, di base sì. Per la fine ha portato giocatori. E posso dire... Sul mercato... Può essere la rivelazione. Ad oggi il Milan ha speso 110 milioni di euro. Ha rifondato un po' il tutto. Quella ha speso di più, mi sa. Probabilmente sì. Quello che penso è che... Questa rifondazione, questa ristrutturazione della squadra è stata... Secondo me sarà efficace. Magari gli effetti non li vedremo subito, nell'immediato. Però, alla lunga... Secondo me la squadra sarà collaudata veramente verso fine novembre, inizio dicembre. Anche perché poi ha tenuto Leao, che era l'altro punto interrogativo. Hanno lasciato andare Tonali. Però anche Magnan sono riusciti a tenerlo. Leao, Leao, Teo... Infatti, quello su cui ragionavo è che il Milan di base può fare mercato... È coperta sul mercato per le prossime 3-4 sessioni. Perché potrebbe vendere alla prossima Leao, Magnan, Teo Hernandez e gli entrerebbero un sacco di soldi, insomma. Quindi è ben coperta per quanto riguarda sul mercato. L'ossatura c'è, lo scheletro della squadra c'è. Esatto, esatto, esatto. L'hanno mantenuto alla fine Tonali è un ruolo, quello del centrocampo, e puoi modificare meglio. Sì, è vero. È il ruolo più sacrificabile. Perché alla fine la porta Magnan... Trovarne un altro come Magnan è difficile. Leao ti fa la differenza. Teo è diventato un po' il simbolo del Milan difesa. Quindi alla fine, secondo me, tra i cedibili hanno fatto la migliore scelta. Ma invece per quanto riguarda la sponda nerazzurra di Milano, l'Inter, che ne pensi del mercato? Perché anche lì è stato un pochino strano. Hanno venduto Nana e insomma quella è stata la cessione più importante, che gli ha dato maggior spessore e valore economico. Sono stati ingaggiati i frattesi. Quadrato è stato adesso l'acquisto più strano che nessuno si sarebbe mai aspettato. Con lo striscione della curva Nord. Che lo sa. Pure Samarsic, se ci pensi. Adesso ieri è tornato a Udine, sembra ormai sfumato. Quello dell'Inter è stato un po' un mercato di giocatori. Ci sono o non ci sono? Pure Scamacca ormai sembra destinato all'Inter. E prima ancora alla Roma. Ancora dopo alla Roma e invece sta all'Atalanta. Samarsic non si fa più niente. Lo sai, l'Inter pure è... Ok, il centrocampo dicono tutti che forse è uno dei più forti. Però lì in avanti, in difesa, secondo me si è indebolita. Anche Sommer, io sono curioso di vederlo. Vedremo, vedremo. Proviamo a fare un gioco. Vai. Allora, dimmi le prime quattro... Cioè le squadre che entreranno in Champions secondo te nella prossima stagione. Devo sbilanciare così. Proviamo. Allora, secondo me la Juve, ce la metto. E sono d'accordissimo con te. Non ha coppe europee, infatti pure della Juventus, secondo me, occhio. Non ha coppe europee. La squadra, bene o male, è quella. Allegri, comunque sia, tanto criticato. Però lui il suo gioco... Non ha un gioco, forse. Non ha il gioco, quello che vorrebbero Mari brillante. Vabbè, ha una sua però idea. La sua filosofia è quella. Semplice, orto muso e vai. E quindi la Juve, io te ce la metto. Il Napoli, per me, da campione d'Italia, non trovarla tra le prime quattro... Sarebbe un po' no, certo. Non penso possa uscire anche perché Ossie Menzi fa un altro anno. Comunque lo vedo ancora tra gli attaccanti più forti che può fare la differenza. anche se c'è la Coppa d'Africa, vabbè, poi questo potrebbe sì. E poi, sai, le squadre di Milano, non metterle tra le prime quattro, Milan e Inter, è tosta. Però poi c'è un quarto posto tra Roma, Lazio e Atalanta. Dici se la giocano... Eh, io ti dico Juventus, Inter, Milan e una tra Roma e Napoli. Il Lazio-Atalanta, le scudi... La situazione alla Lazio perché ha fatto un bel mercato, a mio parere. La Lazio alla fine ha venduto Milinkovic. Ma, tra l'altro, pensavo che la Lazio è la squadra che probabilmente ha incassato di più da una cessione di una squadra araba. Perché da Milinkovic ha incassato 40 milioni che, insomma, bei soldini. Sono bei soldini e poi ha rifatto il mercato. Sono stati investiti bene, secondo te, i milioni interessati? Eh, secondo me il giapponesino Kamada può dir la sua, poi ha preso a zero. E è andato già a gol con il Latina. È un bel giocatore, secondo me. È un bel giocatore da seguire. Ma la Lazio senza Milinkovic un pochino si indebolisce? Diciamo che perde un po' sia quell'esperienza, sia forse quella... Sai, Milinkovic aveva creato qualcosa tra anche i tifosi e la squadra, no? Era un po' quello che rappresentava. Un simbolo. Però questo può mettere in risalto molti giocatori che magari erano un po' più emarcinati. Adesso si ritrovano un po' a dirla loro. Devono... E quindi, secondo me, può far bene anche con Rovella. Arrivato ieri. Esatto. Comunque, giocatore giovane. È un giovane interessante. E poi con il gioco di Sarri. Cioè, noi comunque ci dimentichiamo e c'è Sarri. Sarri sa di cambio. Beh, sì. Non siamo noi e poi... C'è chi lo definisce un maestro. Esatto. Può esaltare qualche giocatorino. Magari anche questo norvegese Isaksen, che l'anno scorso fece male alla Lazio. E Castellanos, non dimentichiamoci, che ha fatto bene nella pre-season. E comunque può sostituire... Anche che la Lazio gioca la Champions quest'anno. Noi non ce lo dimentichiamo, ma gioca la Champions. Chissà come sarà la Champions della Lazio. Anche perché comunque il doppio impegno... Sì, lo spettacolo. Comunque in Champions vuoi sempre andare per non fare male, no? Per non sfigurare davanti ai top team europei. E comunque ti porta via tante energie. Possiamo dire che l'obiettivo minimo della Lazio in Champions è la qualificazione agli ottavi? Poi sempre bisogna vedere in che giro ne capita, insomma. Anche perché la Lazio non è tra le primissime fasce, quindi può capitare due top club. Secondo me la squadra però, valida per arrivare agli ottavi, al momento sulla carta ce l'ha. Certo, poi bisogna sempre vedere. Entrano in gioco tanti vattori, le trasferte. Ti capita un Bayern Monaco, United, e come terza ci sei te, ti dico già, è difficile. Eh beh, chiaramente. Ti qualifica gli ottavi, hai fatto il massimo e potevi fare. Ma questo ritorno di Paredes alla Roma? Con il 16 di De Rossi. Con il 16 di De Rossi? Con il 16 di De Rossi, bello, eh. Che però è stato autorizzato da De Rossi. Però, sai, ti posso dire, è anche giusto. Comunque a Roma, in particolar modo, ci stanno due magliette, il 10 e la 16. Ah ah. Ok? Il 10 è difficile. Sappiamo tutto, vabbè, comunque di Totti, che verrà data a qualcuno, ok. Beh, io ricordo che l'anno scorso, comunque, si parlava molto di Dybala, con la 10 sulle spalle. Però, secondo me, è giusto. Cioè, comunque, te la maglietta... È giusto ritirarla? Cioè, c'è per quel che ha dato Totti, ok? Non è... Non è la puoi dare al primo che capita. Però il 10 ha quel... Io a Dybala... Quindi tu intendi che è giusto che il numero continua... Pesa. Continui a vivere sulle spalle di un altro... Non lo puoi ritirare totalmente. Comunque, anche nei sogni di un bambino... Esatto, stavo dicendo, c'è chi dice anche che è giusto che qualcuno sogni di indossare un giorno quel numero. Esatto. Di quella squadra... Anche poi vai un po' a perdere... Secondo me... Ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. E anche Renato Sanchez è arrivato alla Roma. E ti devo dire che sono molto curioso di vedere come si adatterà al campionato italiano. Perché in tutto ciò Renato Sanchez ha 25 anni. Giovanissimo. Ed ha giocato in Premier League al Bayern Monaco. Ha vinto la Ligue 1 con il Lille. Ha giocato nel Paris Saint-Germain. Campione d'Europa con il Portogallo. Esatto. Ora arriva in Italia. Lui è stato frenato dagli infortuni l'ultima stagione. L'ultime due. Però Sanchez è uno che secondo me si sta bene. Lo sai, alla Roma è sempre quel punto interrogativo. Se stai bene. Poi noi in particolar modo con Villas-Suart abbiamo tipo l'abbonamento anche la scorsa stagione. Però secondo me Sanchez può ingranare. Può ingranare. Speriamo che possa far bene. Anche con... Abbiamo un bel centrocampo. Cioè la Roma ha un bel centrocampo. Ma in Italia ci stanno bei centrocampi. Stavo vedendo un attimo quale è entrata in Milan. Abbiamo parlato. L'Inter. La Lazio. La Roma. E secondo me pure la Juve ha un centrocampo da non sottovalutare. Con Locatelli. Fagioli. Eh... Si può giocare tanto su quel fattore centrocampo italiano. Ma invece per quanto riguarda le neopromosse? Perché... Ti devo dire che secondo me sono tutte e tre squadre Frosino, Enegeno e Cagliari. Sono tutte e tre squadre che potrebbero dire la loro nel... E il Genoa ha fatto un bel mercato. Il Genoa ha... Secondo me era un attaccante che potevano... Poteva essere acquistato anche da squadre... Magari un po' più in alto. Che giocavano una Coppa Europea. Comunque il Reteghi ha fatto bene in Argentina però lì è un campionato molto differente. E io credo che lui ha voluto venire in Italia perché il prossimo anno si giocheranno gli europei. Per farsi vedere. Esattamente. Per essere più vicino comunque alla nazionale e entrare ancora maggiormente nel giro della nazionale. Anche perché comunque il calcio europeo tatticamente è totalmente diverso. Anche dal punto di vista agonistico. Cioè dal punto di vista... Eh beh è chiaro. Quindi ok. Ma proprio come... Come viene vissuto non lo so in realtà. Perché... No c'è molta passione lì in Argentina. Esatto. Però anche da un punto di vista ti devi mettere comunque su... Contro squadre italiane che dal punto di vista tattico ok possiamo dire molto e l'abbiamo visto anche l'anno scorso in Europa che vuoi non vuoi tutti dicono che siamo ehm... il calcio italiano sta un po' perdendo di a Pial. Però pure l'anno scorso siamo arrivati in finale in tutte e tre le competizioni. Infatti io non sono totalmente d'accordo su questa cosa. Poi ci sono grandi differenze ad esempio con la Premier League. Però secondo me l'anno scorso in Europa abbiamo fatto bene. Esatto. Non abbiamo portato a casa nessun titolo per poi... Cioè comunque un po' di sfortuna e via dicendo. Però ci siamo arrivati. Esatto. Quindi se tu arrivi vuol dire che in qualche modo hai fatto meglio di altri. Esatto. Sì. Poi fortuna, non fortuna questi sono... La finale cara secca può succedere qualsiasi cosa. Capito. Siamo arrivati con tre squadre in tre finali europee diverse. Eh... Secondo me è detto tanto. Cioè... Contro due inglesi quindi per rimanere il discorso della Premier e il Sevilla quindi la Liga però alla fine chissà che quest'anno qualcosa in Europa non ce lo possiamo togliere. Speriamo, speriamo. A proposito di Coppe Europee il Manchester City ha vinto la Supercoppa Europea contro il Sevilla triunfando ai rigori che sono stati dei rigori veramente tirati bene e non è così scontato ormai perché io ho come la sensazione che i rigori da un po' di tempo a questa parte vengano molto sottovalutati che in realtà è assurda questa cosa perché il rigore è il modo più semplice per una squadra di segnare. Certo, tanta pressione soprattutto nelle finali arriva ai rigori no ma infatti il Sevilla ha perso con un rigore stampato sulla traversa ma in realtà tirato di potenza non è entrata stata un po' sfortunata e poi tolti gli specialisti magari ogni squadra c'era i suoi due tre specialisti gli altri secondo me che arrivano ai calci di rigore sai danno oddio comunque il Manchester City prima di pareggiare con Palmer era un pochino in difficoltà e ragionavo sul fatto che la finale di Champions League contro l'Inter il City cioè l'Inter ha fatto una bella finale e poi l'ha perso solamente 1-0 quindi neanche a dire esatto esatto la settimana scorsa il City ha perso ai rigori contro l'Arsenal la Community e e poi ieri ha trionfatosi in Supercoppa però diciamo non si è visto totalmente il City di Guardiola ma è probabile che il City abbia qualche difficoltà da affrontare le finali forse soffra di troppa pressione lo sai anche siamo a inizio stagione quindi metti un inizio stagione senza De Bruin che si è infortunato e Guardiola ha detto che dovrà stare fuori pure parecchio 3-4 mesi quindi e e poi si ancora inizio stagione comunque hanno festeggiato è stata un'estate o grillish di festeggiamenti si sono presentati alla fine l'hanno vinta quindi non è che gli puoi dire qualcosa però si non si è visto proprio il City di Guardiola anche il primo tempo molto si un po' tiki-taka non quel calcio spumeggiante che hanno fatto vedere l'anno scorso però secondo me anche un po' di adattamento qualche giocatore nuovo qualche innesto mentre al contrario in Premier League sono partiti col piede sull'acceleratore in una maniera impressionante ha sfornato quella doppietta e poi si è presentato prima giornata in Premier dove ha segnato anche Donali si è ambientato subito Donali facendo un gol comunque è bellissimo ha fatto la semi rovesciata c'è un inquadratore allora c'è quando vai a vedere gli alets c'è l'inquadratura diciamo base e poi c'è ho visto un'altra inquadratura diciamo dalla bandierina del calcio d'angolo e si vede l'acrobazia di Donali una cosa impressionante ha fatto quell'inserimento secondo me è il gioco suo quello in Premier perché comunque è un giocatore che ha tanta corsa quindi è un giocatore che per la Premier è perfetto e poi nel Newcastle in particolar modo giova pure la Champions quest'anno secondo me è centrale e poi se hanno speso 70 milioni cioè vuol dire non è li puoi far fare panchina quindi è un giocatore che giocherà al centro del progetto esattamente giovane al centro del progetto e poi i tifosi inglesi già impazziti vabbè che ti posso dire i tifosi inglesi hanno sempre il solito coro è quello drink moretti eat spaghetti e poi ti dicono il cognome e il coro è e odia il Sunderland la squadra rivale poi metti e hits la squadra è geniale è bellissimo lo ripetono per tutti l'anno scorso oppure non mi ricordo chi era vabbè sempre i soliti giocatori metti un giocatore italiano i drinks moretti i spaghetti i giocatori santo tonali per quanto riguarda invece questo weekend di Premier League ci sono due scontri da non perdere perché sabato che si giocano entrambi di sabato una alle 18.30 che è Tottenham Manchester United e sono due squadre diciamo ancora da capire bene anche perché Tottenham dicono Lukaku ultimamente vorrebbe essere anche perché dico la verità secondo me a sto punto Lukaku vai al Tottenham in Italia non ti ci ripeto nella Juve nell'Inter ormai no a sto punto al Tottenham ti rifai comunque giochi in Premier League ti metti un po' alla prova comunque in un top team però il Tottenham non ha mai fatto quel salto gli manca ancora qualcosa perché nonostante abbia speso tantissimo ha rifatto lo stadio ha preso comunque i grandi allenatori o Meconte però poi è sempre mancato quel calcosina per fare quel passo anche quando ha giocato in conference poteva arrivare fino in fondo poteva tentare di vincerla si è fermata secondo me potrebbe con Lukaku magari anche una coppa di Lega tanto ce l'hanno in Inghilterra non gli mancano quindi eh no perché la seconda partita molto interessante è il match tra Manchester City e Newcastle che si preannuncia un match spettacolare sabato alle 21 qua ti posso dire che potrebbe esserci una bella sorpresa secondo me perché il City ha giocato appena ieri Newcastle sta Newcastle a 25 a 1 e e quindi potrebbe sai contro il City di Guardiola vedremo 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 la cosa interessante invece è che per questo weekend di Premier League era prevista la gara tra Luton Town e Barley le due neopromosse che vengono dalla Championship mentre è stata rinviata perché a Luton Town sono in corso ancora i lavori di adeguamento dello stadio del Kenilworth Road andatelo a vedere amici perché è completamente immerso nelle case di Luton e questo stadio è stato costruito nel 1905 quindi ha 10.000 posti ma infatti diciamo che i lavori di adeguamento per i canoni che si devono rispettare della Premier League non sono tanti posti a sedere perché la Premier League impone un minimo di 5.000 posti e ce ne ha 10.000 mi sembra ce ne ha 10.000 mentre pensa la Serie A impone un minimo di 12.000 posti che per gli stadia abbiamo noi troppi lavori dovremmo fare esatto quanto più questi lavori riguardano per esempio il mettere mano al terreno di gioco oppure una cosa molto particolare è ampliare la sala stampa perché la sala stampa del Luton Town ha 29 posti a sedere mentre la Premier League ne richiede un minimo di 70 mazza fa il pienone no però sono è interessante è interessante bello stadio anche qui chissà se li porteremo i nostri amici allo stadio di Luton magari un giorno vedremo e speriamo ma Zaniolo può rilanciarsi all'Aston Villa ti conosceva quasi fatta stavo leggendo ti posso dire che forse è l'ultima occasione lui ormai ha 20 del 99 vabbè 24 anni secondo me non è l'ultima occasione però torna un pochino nel calcio che conta in Premier League nel Galatasaray vuoi non vuoi il Galatasaray c'è Mertens c'è Riccardi tutti quasi a fine carriera lui c'è arrivato a 23 anni in Premier all'Aston Villa gioca alla conference ti puoi mettere il lustro e attenzione all'Aston Villa in conference perché è allenata da Emery ha fatto un bel mercato ha comprato di Abidal Leverkusen 55 milioni e Pau Torres dal Villareal ha fatto un bel mercato e poi Emery vede le coppe occhio Emery con le coppe gli piacciono per cui lo dico attenzione alla Storviglia attenzione senti ma bel bell'escursus sul calcio prepariamoci a questa giornata di Serie A la commenteremo bentornata Serie A bentornata sappiamo già come passeremo il nostro sabato e la nostra domenica però ora è arrivato il momento di parlare di cambiare sport e di parlare dei mondiali di atletica tanto attesi che si terranno a Budapest dal 19 al 27 agosto e l'Italia si presenta a questi mondiali con un bel reparto lo sai siamo la quinta nazione con più atleti o comunque ti devi pensare che questi mondiali ci saranno 202 nazioni incluse e comunque pensare a parte i colossi USA tutte le squadre africane essere la quinta nazione è tanto perché negli ultimi anni dalla vittoria dalle tante medaglie d'oro di Tokyo 2020 siamo secondi del medagliere a Tokyo anche quello è un successo è cresciuto il movimento in Italia dell'atletica è cresciuto bellissimo possiamo dire anche finalmente sì almeno qualcosina di diverso siamo appunto arrivati secondi del medagliere a Tokyo poi i mondiali l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo il gene un oro e un argento però ci può stare e ora vediamo un po' questi mondiali tante attesi tante gare sin da subito sin da sabato mattina perché si partirà con la marcia 20 chilometri uomini e occhio dove abbiamo il nostro campione olimpico Massimo Stano occhio che magari ci può portare subito qualche gioia qualche gioia un oro ai mondiali che poi lo sai lui la storia vabbè bellissima lui pugliese a parte la Puglia sulla marcia fortissima palmisano fortunato regione di marcia e poi bellissima una storia perché lui appassionatissimo dei cartoni giapponesi e si è sposato per sposarsi ha cambiato religione e si è diventato musulmano per fare il matrimonio bellissimo e poi ha vinto le olimpiadi lui è vinto i mondiali che è un vero campione quindi speriamo che possa aprirsi nel migliore dei modi a Budapest a Budapest dove gareggerà anche Larissa Yapichino che è reduce tra l'altro dalla vittoria nel Santo Illungo a Monte Carlo nella Diamond League ed è interessante a parte che vabbè è la figlia di Fiona May quindi insomma è figlia d'arte ma è allenata il cognome parla per lei esattamente probabilmente supererà la madre la madre ha il record italiano quindi se la dovesse superare a 7 metri 11 lei 695 697 indora quindi sta lì chissà speriamo perché è allenata dal papà dal papà a Gianni tra l'altro è allenata dal papà a Gianni nel 2021 dal 2021 e di recente il papà ha fatto ha rilasciato un'intervista dove diceva che in realtà inizialmente non voleva allenarla proprio per quel rapporto tra padre e figlia tra allenatore ed atleta che comunque deve instaurarsi e che sicuramente è diverso dal rapporto tra padre e figlia anche perché sai da allenatore a figlia comunque devi saper pure rimproverare cioè devi sapere spronare rimproverare devi essere allenatore devi un pochino mantenere quella distanza che magari da padre e figlia non c'è giustamente giustamente e quindi anche perché lei è seconda nel ranking mondiale sempre di salto e lungo femminile e ricordiamolo appuntamente alle 12.25 di sabato le qualifiche con e lei appunto e ci sarà la numero uno del ranking che invece è Ivana Buleta una serba quindi vedremo secondo me può stupirci medaglia speriamo speriamo anche da Jacobs lo sai che qui bel punto interrogativo perché lui ha corso solo una volta torna finalmente torna ha corso solo una volta in stagione facendo un 10.27 quindi vabbè non proprio un migliore tempo però ci sta un po' per riassaporare la pista i 100 metri aprono pure loro sabato a mezzogiorno e 35 con i turni preliminari e anche qui lo sai per la prima volta non c'è un grande favorito perché fino a quando c'era Bolt già si partiva dicendo vabbè primo posto già c'è e invece ci stanno diversi atleti sui 9.80 tra cui il britannico Zarnel Hughes che ha il 9.83 stagionale e lui potrebbe impensierire il record europeo di Jacobs che è sui 9.80 e poi c'è vabbè il grande favorito Fred Kerley possiamo dire il campione del mondo in carica che non è Fred Perry non lo è non lo è però pure lui sta lì e Keniano diciamo l'ultimo Keniano Ferdinand Omanjala che con un 9.84 questi sono i tre favoriti però speriamo Jacobs cioè entrare secondo me in semifinale però possiamo fare un ragionamento molto basic cioè nel senso Jacobs è campione olimpico un pochino è lui il favorito speriamo magari non vogliamo sbilanciarci comunque lo sai in pedana quando scende viene anche da un periodo molto complicato di infortuni ha tribolato parecchio però dai magari facciamo un grande in bocca al lupo a tutta la spedizione italiana a lui e Ceccarelli anche l'altro nostro centometrista ha fatto molto bene in stagione e la finale c'è già domenica alle 19.10 subito una delle prime medaglie anche perché i mondiali saranno in chiaro su Rye Sport su Sky Sport su Eurosport quindi sono molto accessibili in realtà ed è sempre molto divertente è appassionante vedere la verità quelle gare sì anche perché poi soprattutto la velocità che sono quelle gare che magari prendono un po' di più più veloci e stanno in apertura abbiamo i 100 metri ma abbiamo anche i 400 metri che aprono la domenica alle 10.25 e i 400 pure belli ti posso dire c'è il Bahamense Steven Gardiner che parte da favorito ma poi abbiamo il ritorno di Van Der Nicken non so se si pronuncia così speriamo abbia pronunciato che lui è il record quello colui che ha il record del mondo 4303 assurdo che si era rotto il crociato giocando a una manifestazione di beneficenza a rugby nel 2017 quindi è stato fuori è tornato ultimamente e secondo me è un bel ritorno comunque queste sono proprio le sfortune che capitano vai a fare una partita di beneficenza te atleta esatto seguito al massimo di spicco nei 400 ti rompi il crociato lì poi nel periodo in cui stai nel massimo della fornua è brutto brutto però farei anche un escurso sugli altri campioni olimpici speriamo anche tamberi che parte sabato è vero che è il capitano della nazionale e gli manca solo questa medaglia solo questa medaglia gli manca facciamo un grande in bocca al lupo anche a Jimbo speriamo bene Jimbo tamberi che se dovesse vincere sai purtroppo lui c'è il suo amico catariota e sabarshin cioè domenica non sabato alle 10.35 partono le qualificazioni a lui gli manca solo questa medaglia se dovesse vincere pure i mondiali secondo te si potrebbe tipo ritirare cioè dice io ho vinto tutto quanto ne hai? non mi ricordo va sulla trentina tamberi ok più o meno siamo lì 29 adesso non lo so precisamente però siamo verso quasi la fine e comunque dovresti vincere pure i puntiali beh magari dopo un po' cominciano anche a venire meno quelle le motivazioni che ti avevano fatte arrivare a quel livello molto carico l'ho sentito ultimamente su Sky Sport gli hanno fatto un'intervista molto carico anche perché è l'ultima medaglia di banca cioè vince questa tra l'altro ora stavo pensando i video sui social di tamberi sono sempre molto divertenti lui vuole sempre tanta carica dal pubblico vabbè ma anche giusto anche giusto parti un po' di pubblico pubblico ci dicono dalla regia che ha 31 anni 31 anni ci dice la regia quindi sì vabbè ci siamo ci siamo che sì ora invece ti racconto questa cosa perché? perché c'è un po' d'italia anche nella costruzione dell'impianto sportivo perché chiaramente in occasione dei mondiali a Budapest hanno costruito un nuovo centro che prende il nome di National Athletic Center di Budapest e al momento per l'evento ha circa 36.000 spettatori a sedere posti posti a sedere i lavori sono iniziati a dicembre del 2020 e si sono conclusi a fine a inizio 2023 quindi un paio d'anni tra l'altro dopo i mondiali quindi dopo l'evento l'anello superiore verrà smontato e la capienza verrà ridotta a 15.000 spettatori questo perché chiaramente se no sarebbero sarebbero troppi però la curiosità è che un'azienda italiana la Bordignon Group ha zincato esatto la copertura del tetto e il rivestimento strutturale esterno anche io quando ho sentito zincare per la prima volta non sapevo cosa volesse dire zincare vuol dire rivestire con uno strato di zinco i materiali l'acciaio soprattutto per proteggerli dalla corrosione e quindi comunque c'è un po' d'Italia anche nella costruzione speriamo che ci sia anche nell'organizzazione dei mondiali già partiamo nell'organizzazione speriamo anche nel medagliere assolutamente assolutamente quindi vabbè concludiamo facendo un grandissimo le gare da seguire sono stante esatto e facendo un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani tanto poi avremo modo comunque ancora di parlarne perché dureranno fino al 27 agosto poi magari metteremo un programma con le gare principali assolutamente ci divertiremo io ora se tu stai d'accordo passerei al tennis facendo un breve accenno e rendendo onore al thinner perché settimana scorsa ha vinto a Toronto Masters 1000 e ci voleva possiamo dire che ci voleva dopo tre finali in cui non era riuscito a vincere finalmente ha vinto e posso dire anche a poco prima del compleanno quindi ancora a 21 anni ma ci sta tutto ci sta tutto finalmente numero 6 un bel torneo numero 6 un bel cammino e poi si ormai ha fatto il nuovo best ranking per lui è uscito a Cincinnati però ragazzi ci sta ci sta il giorno del suo compleanno dopo la vittoria del torneo magari ha riposato poco e poi sta in preparazione dello US Open infatti ma secondo me lui deve arrivare lì al top della forma e la vittoria a Toronto io credo che lo aiuti un sacco mentalmente anche si si infatti il suo allenatore l'ha detto queste vittorie ci aiutano a spronarci di più sai quando vinci sei sicuro dei tuoi mezzi ti dice ho vinto l'ATP 1000 che era quello che gli mancava adesso cosa c'è lo slam come step successivo quindi comunque arrivi allo US Open più carico e secondo me ci potremmo togliere delle soddisfazioni a Wimbledon è arrivato in semifinale chissà se allo US Open non possa stupirci ancora di più vedremo vedremo speriamo insomma tra l'altro volevo dire questa cosa se avete modo andatevi a recuperare su YouTube li trovate tranquillamente gli alites del match di Alcaraz contro Paul se non sbaglio ai quarti di finale di Toronto perché c'è stato un gesto tecnico di Alcaraz un tweener bellissimo pazzesco poi tra l'altro ho ottenuto il passante ed ha fatto un punto ma lo sai che Alcaraz ha questi punti pallonetti palle corte però ha fatto secondo me un po' troppo lo sbruffone perché con Paul dove è uscito lui agli ultimi due punti ha fatto sempre la palla corta ok però gli è riuscita male allora perde il primo punto quindi c'era match point per Paul cosa fa subito dopo un'altra palla corta vabbè poi lì però anche lì ti posso dire che ci sta un piccolo calo comunque dopo che hai trionato Wimbledon veniva da non so quante vittorie mi sembra 14-15 vittorie consecutive capito ma anche lui la giornata starta cioè magari Paul stava nella giornata di grazia ma anche lui mira a US Open insomma che già ha vinto quindi lui li difende esatto gli slam in cui difende 2000 e passa punti quindi quindi ci sta ci sta altra cosa molto interessante è che sono iniziati il 15 agosto quindi nella giornata di ferragosto gli europei l'Italvolley femminile della pallavolo femminile e l'Italia ha fatto il suo esordio nella splendida cornice dell'arena di Verona bellissimo impressionante c'erano 9000 spettatori ma poi più di un milione io ho letto incasso 300.000 euro se non sbaglio sì era su 300.000 infatti comunque posso dire come incasso per partire per l'avolo femminile sì ma poi veramente nell'arena di Verona c'era un'atmosfera il primo evento sportivo della storia fatto nell'arena di Verona bellissimo e poi e poi sì e poi hanno gioiato veramente bene sì perché ricordiamo che l'Italia ha vinto tutti e tre i set giocando una gara pulita fondamentalmente non ha neanche mai mai rischiato sì eravamo superiori alla Romania sì 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 però anche due e tre con l'antropova che è la prima partita ufficiale con la nostra maglietta no ma sai anche che penso che comunque è a prescindere una gara d'esordio giochi dentro l'arena di Verona è la prima volta che si svolgeva un evento sportivo lì dentro infatti è stato curioso anche vederla sotto un'altra veste perché in genere siamo sempre abituati a vederla come teatro di concerti di eventi musicali esattamente invece un evento sportivo è molto è molto interessante e poi la cosa bella è che a ogni punto c'era tipo il DJ esatto esatto c'è stato tanto movimento tanti bambini tanti ragazzi esatto una bellissima una bellissima atmosfera allora l'Italia è capitata nel girone con Svizzera, Bulgaria Bosnia e Croazia in teoria dovremmo essere i favoriti in teoria sì in teoria di questi europei noi la Turchia e la Serbia in teoria poi ci sta sempre la squadra rivelazione può capitare però speriamo bene speriamo bene anche perché giochiamo domani alle 21 tanto uscirà domani quindi sarà il giorno stesso la sera alle 21 contro a Monza contro la Svizzera esattamente dopodiché affronteremo la Bulgaria il 19 quindi sabato gli ultimi due appuntamenti del girone saranno il 22 contro la Bosnia e il giorno dopo il 23 contro la Croazia tanto anche qui avremo modo comunque di commentare ulteriormente però non scordiamoci di dire le cose importanti di questa nazionale ossia che è tornata la Egonu dopo che aveva saltato la National League e insomma in realtà negli ultimi giorni in questi due giorni ha giocato poco sì anche perché si dice abbia avuto un malessere comunque come non vuoi secondo me quelle sono cose che devono rimanere come nel calcio ma molte volte rimangono nello spogliatoio è vero è inutile siamo nella prima partita dell'europeo il cammino è lungo fare chiacchiere sulla perché non ha giocato perché ha giocato non ci sta ora lasciamoli secondo me dobbiamo lasciare tranquille hanno fatto una partita strepitosa siamo le favorite del girone perché comunque va detto siamo in teoria le più forti e lo dobbiamo dimostrare e chissà se non possiamo siamo campione in carica europei quindi speriamo bene nella squadra femminile e soprattutto da segnalare la presenza con la maglia azzurra dell'antropova che è questa ragazza a 2003 che ha ottenuto la cittadinanza italiana il 10 agosto quindi 5 giorni prima dell'inizio del mondiale ma poi ragazzi è una montagna 2 metri e 3 2 e 2 poi come schiaccia poi anche la sua storia è molto particolare perché nata in Islanda da genitore russi è arrivata in Italia nel 2018 a Sassuolo all'Academy del Sassuolo e poi diciamo che da lì è partita la sua carriera infatti la cittadinanza italiana l'ha ottenuta per meriti sportivi poi è giovanissima giovanissima e fare essere veramente promettente e dobbiamo essere contenti che comunque abbia scelto di indossare la maglia della nazionale insomma perché molte volte queste cose accadono bene il calcio che i giocatori di altri nazionali cioè in teoria nati in altri nazioni poi giovano per noi e quindi anche comunque ci sta nella pallavolo che accada lo stesso e vengano comunque esaltate e quindi messe in risalto ricordiamo che inoltre il 25 agosto partiranno i mondiali di basket che si disputeranno nelle Filippine però non approfondiamo al momento tanto questo evento questo argomento perché poi ci sarà una puntata dove andremo più nel dettaglio però per il momento possiamo dire che la nazionale italiana di basket ha fatto un'ottima preparazione al mondiale e anche per sempre rimanere nel basket c'è da dire che anche i ragazzi più giovani hanno appena disputato l'europeo vinto la medaglia d'argento under 16 e quindi questo per dire che c'è il movimento c'è il movimento bello è una cosa che comunque può aiutare anche per il futuro portare nuove promesse si sta sviluppando bene tanto poi seguiremo insieme tutti questi eventi e anzi commentate il video seguiteci sui social compariranno tutti in di Tascalia assolutamente soprattutto se avete degli argomenti di cui volete parlare qualche sport magari esatto da approfondire da conoscere noi siamo qua siamo disponibili qualche evento sportivo da vedere assolutamente e lo commentiamo insieme anche perché lo sport è bello sempre e soprattutto sia il gesto atletico in sé ma raccontare quello che c'è oltre magari il gesto atletico quello che c'è dietro esattamente proprio la fatica per arrivare adesso ci stanno i mondiali di atleti a te devi pensare questi atleti comunque si sono allenati per arrivare qui nel miglior stato esattamente hanno fatto sacrifici ed è bello certo certo nel chiudere la puntata io farei un grandissimo ringraziamento alla regia video e alla regia audio perché ci aiutano in questo nostro nuovo progetto Andrea io ti ringrazio ed è stato veramente un piacere iniziare questa avventura con te sono veramente contento a mia volta ti ringrazio per questo nostro questo nostro inizio questo nostro progetto speriamo che possa durare il più lungo possibile assolutamente possiamo dire che ci siamo divertiti ci siamo divertiti tantissimo le prove che abbiamo fatto questa prima puntata ragazzi c'è un lavoro dietro che dura da un po' di tempo però veramente sono felice di intraprendere questo percorso insieme a te l'appuntamento torna la prossima settimana quindi rimanete attenti sul pezzo sempre connessi per oggi è tutto alla prossima settimana ciao amici sportivi ciao